Dopo 18 giorni dall'azzeramento della giunta comunale, il sindaco Melucci ha varato il nuovo esecutivo di Palazzo di Città. Una necessaria fase di confronto, scrive il primo cittadino, con le forze politiche di maggioranza e ferme restando le consuete valutazioni di carattere fiduciario che la norma prevede, lo stesso sindaco Melucci ha dato mandato al suo ufficio di gabinetto di predisporre i decreti di nomina dei seguenti assessori e delle relative deleghe. Gabriella Ficocelli ai servizi sociali e integrazione, Rita Frunzio alla pubblica istruzione e pari opportunità, Deborah Cinque Palmi affari generali e associazionismo, all'urbanistica e alla mobilità Augusto Ressa. Vengono confermati invece Gianni Cataldino allo sviluppo economico e alla polizia locale, cultura e sport Fabiano Marti e Paolo Castronovi alla società partecipate e risorse umane. In tutto sette assessori. Per il momento il primo cittadino tratterrà per sé le ulteriori deleghe a lavori pubblici, ambiente, affari legali e programmazione finanziaria. Il sindaco è tornato a ringraziare tutti gli amministratori uscenti per il positivo servizio svolto a favore della città ed ha augurato un buon lavoro alla nuova giunta comunale che tornerà a riunirsi formalmente già questa settimana. Non appena insediati i nuovi assessori, l'amministrazione comunale pubblicherà nell'apposita sezione online i rispettivi curriculum.